Doppio giro, gamba impugnata. Oh! Hai! Però, bene, bene, Giorgia, tutto a posto. Andiamo avanti. Arrivo un po' carico su questi tendini, eh? Attenzione. Magari, ecco, l'abbiamo provato oggi, poi basta. La paura era comprensibile. Direi, Tabak purtroppo con un errore. Carica, eh? E questi due giri in Wolf Position. Un pochetto scarto. Tiralo dentro. Bene. Doppio raccolto. Anjambe cambio e strag. Parte coreografica. E termina. Ehm... Allora, bene, ok, è tornata sull'allround, però... Forse un pochino meno al momento. Nel senso che un arrivo, ecco, un arrivo così carico sui tendini, magari mettere un tappetino, un campionato di Serie A, come usano i ragazzi che mettono il tappetino in più perché...